L'undicesima edizione di Identità Golose è cominciata nel segno dell'accoglienza, sia per quanto riguarda l'area espositiva che per i contenuti. Nuovo è il tema, di chiara attualità, una sana intelligenza che riprende la golosa intelligenza dello scorso anno, declinando il crescente bisogno di cucina buona, sana, sostenibile nella prospettiva di Expo Milano 2015 e del suo tema portante e inutile del pianeta, energie per la vita. Tre giorni, nove sezioni, 100 chef, 150 appuntamenti, questi i numeri che caratterizzano Identità Golose 2015, dove i più grandi professionisti della cucina e della pasticceria italiana e internazionale raccontano il connubio tra gola e benessere, spazio più che mai alla cucina naturale, non solo sinonimo di cultura vegetariana e vegana, ma opportunità di coniugare sempre di più il gusto, stili di vita, sani e comportamenti ecosostenibili. Grazie a tutti! Grazie a tutti!